Prendere al via domenica 24 aprile la quinta edizione del Puccini Chamber Opera Festival organizzato dall'Associazione Lucchese di Musica Contemporanea Cluster e dal Teatro del Giglio. La rassegna, una delle poche al mondo da essere dedicata alle opere del presente, porterà in scena sul palco del Teatro di San Girolamo cinque spettacoli lirici, opere scritte da giovani compositori studiate e perfezionate durante il corso di composizione per opera lirica che la stessa Cluster organizza in estate. Il cartellone del festival prevede poi due incontri col maestro, durante i quali alcuni compositori già affermati verranno intervistati dal maestro Renzo Cresti. Abbiamo delle bellissime collaborazioni quest'anno poiché la Fondazione Zeffirelli ha costruito un corso analogo di regia operistica per cui i registi che hanno seguito un corso a Firenze e verranno qui da noi a fare la parte registica delle opere. L'altra bellissima collaborazione invece è con la classe di canto contemporaneo del Conservatorio Giuseppe Verdi di Ravenna per cui avremo cantanti che arrivano da Ravenna che studiano per l'appunto canto contemporaneo e quindi ci sarà questo trade union tra giovani registi, giovani compositori, giovani cantanti che si mettono insieme e costruiscono un percorso che è tutto da scoprire.